Vogliamo lasciare alle spalle la polemica su questa soglia al 5%, anche se è vero che Renzi si è rimpegnato con noi alcuni mesi fa a mantenere la soglia al 3%. Sottolineo anche che la soglia al 5% è del tutto arbitraria, non ci raccontino che è tedesca, perché qui di tedesco c'è pochissimo, non c'è la sfiducia costruttiva che è elemento fondamentale per un sistema tedesco, non c'è il recupero per quei partiti che hanno vinto almeno tre collegi uninominali, non c'è il numero variabile dei deputati, quindi diciamo che non è tedesco, è un'invenzione di Renzi che ha trovato l'assenso per carità importante di altre forze parlamentari che hanno stabilito arbitrariamente una cifra, potrebbe essere il 5, potrebbe essere il 3, Berlusconi addirittura ha proposto l'8, io a Berlusconi ho detto perché non il 15 allora, voglio dire, è tutto a disposizione di loro signori, ma noi certamente non vogliamo fare la battaglia sullo sbaramento, se lo sbaramento è il 5% noi siamo convinti di poterlo superare, allargando quel coinvolgimento di forze che si riconoscono nei valori del Partito Popolare che abbiamo già cominciato e che evidentemente acceleremo, semmai la nostra polemica, la nostra preoccupazione fortissima è sui tempi assolutamente accelerati che vengono imposti, travolgendo tutta una serie di impegni molto gravi, che l'Italia sia assunto di fronte alla comunità internazionale e soprattutto di fronte alla comunità economica, impegni che permetterebbero di mettere in sicurezza i conti degli italiani, i conti delle famiglie, qui ci sono le banche, soprattutto quelle venete, il cui destino appeso a un filo, per non dire che siamo sull'orlo di un baratro, qui c'è lo scatto delle clausole di salvaguardia, 17 miliardi di IVA che deprimerebbero ulteriormente i consumi e che scattano dal primo gennaio, qui c'è una legge di stabilità molto delicata, lo sanno tutti, si tratta di riparare gli errori del passato, che deve essere fatta, non può essere consegnata al governo che verrà, perché non siamo sicuri di quale sarà il governo che verrà, potrebbe anche essere un non governo, potrebbero volerci delle settimane o dei mesi per fare un governo, quindi la nostra posizione è molto chiara, definiamo la legge elettorale, che va definita in moltissimi aspetti, si tratta ad esempio di vedere come è applicato al Senato questo tedeskellum o italianellum alla tedesca, definiamo la legge elettorale, votiamola, bene che ci sia un consenso ampio, ma soprattutto mettiamo in sicurezza l'Italia e andiamo a votare dopo aver messo in sicurezza l'Italia, ci sono anche voci molto autorevoli, le abbiamo viste levarsi in questi giorni, che dicono si vada a votare alla scadenza naturale, che è febbraio del 2018, anticipare di tre mesi per il gusto di chi? Perché qualcuno è convinto che votando a ottobre lui può tornare a Palazzo Chigi? Mi sembra una convinzione molto velleitaria, ma poi soprattutto non è che per il destino di un uomo dobbiamo, ripeto, mettere a repentaglio la sicurezza del paese, i conti degli italiani, la tranquillità delle famiglie e delle aziende. Allora Parini, perché questa c'è?